Anche Salerno, nelle tappe che la nave scuola Palinuro sta effettuando con l'obiettivo di incontrare cittadini ed istituzioni. La campagna internazionale Only One porterà la nave ad attraccare i numerosi porti del Mediterraneo per portare l'importante messaggio di sensibilizzazione sull'urgenza di attuare la transizione ecologica. Questa città mi ha veramente eccezionalmente colpita per la sua qualità, la qualità dei professori, dei dirigenti scolastici, lavori che vengono fatti, prodotti, ragazzi come se non tenuti sotto controllo. Diciamo un'esposizione eccezionale in una città che l'ha differenziata, cioè fa veramente quello che vorrei poter vedere quasi in tutte le città. Tra l'altro il nostro vice governatore della regione Campania, Fuglio Bonavitacola, è rimasto totalmente entusiasta di questa mostra itinerante, una mostra itinerante ma internazionale perché oggi a bordo del Palinuro per le tappe che ci saranno nel Mediterraneo e il Vespucci per le tappe che ci saranno nei cinque continenti perché è due anni stare fuori, ritoccando veramente tutto il mondo e portando questa parola e lui ha stabilito che bisognerà farne un documentario, un video, un qualche cosa per poterlo veramente inviare a tutte le scuole, a tutte le scuole che devono ricevere questo messaggio per poter camminare poi insieme e produrre quello che viene richiesto per la transizione ecologica perché siamo 8 miliardi di persone e siamo tanti e ci dobbiamo saper comportare prima di non vedere il nostro pianeta sfumare. Grazie a tutti.